Fra poco si potranno giocare carte nel TCG di One Piece provenienti dall'Oriente anche qui in Occidente? Se così sarà, quali saranno le conseguenze che si verificheranno a livello di mercato? E che vantaggio potrà portare questa scelta al gioco di carte collezionabili basato sul capolavoro immortale del maestro Oda? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Novità interessanti provengono dal sollevante per quanto riguarda il TCG di One Piece dato che fino a questo momento c'è stato uno spartiacque netto tra mercato orientale ed occidentale che inizia però a dare piccoli segni di cedimento avvicinando i due mondi. Infatti dalle ultime novità provenienti dal web sul regolamento giapponese del gioco è comparsa una norma che permette ad ogni aspirante re dei pirati di utilizzare don di qualsiasi lingua, lì dove prima di questa notizia non era possibile farlo. Ebbene in questo video analizzeremo gli aspetti che prenderanno in considerazione eventuali sviluppi che vedranno, magari in futuro, l'unione dei due fronti creando un singolo blocco giocabile in ogni dove senza limitazioni di idioma. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritta al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un clic, per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quale potrà essere l'eventuale evoluzione o involuzione del TCG di One Piece se il mercato mondiale diverrà unificato. Andiamo a dargli un'occhiata. TCG ed OCG Partiamo dal principio con la descrizione di questi due termini. Per TCG si intende, e questo lo sappiamo, Trading Car Game. Per OCG invece l'acronimo sta ad indicare la nomenclatura che riguarda l'Originar Car Game, ovvero da dove tutto, lo dice la parola, ha origine, in questo caso dalla zona asiatica del globo. Non per questo sono avanti con i set rispetto a noi e parte tutto dal team di sviluppo della Bandai che ha sede in Giappone. Band, rivisitazione, regolamento e così via. I quali cambiamenti vengono poi integrati anche qui in occidente dopo settimane o mesi. Quindi parte praticamente tutto dal paese del sollevante per poi essere esteso al resto del mondo. Ed è proprio questo il fattore principale che deve interessarci, perché dagli ultimi aggiornamenti al regolamento nipponico, lo ripetiamo, è stato inserito il fatto che potranno essere utilizzati donne di qualsiasi lingua per poter affrontare un match, cosa che prima non era permesso fare. Ora, questo non sta a significare per certo che dai Don si potranno avere estensioni di linea che coinvolgeranno anche le carte giocate, visto che gli elementi in questione rappresenteranno semplici risorse e, se riconoscibili, purché ufficiali e non custom, assolveranno tutti allo stesso scopo, attingere costo, innescare effetti e potenziare character. Ma una cosa mi fa ben sperare, il retro delle carte. Mi spiego meglio. Se prendiamo ad esempio la parte dorsale dell'OCG di Yugi, essa risulterà differente rispetto a quella del TCG, proprio nella zona dove è riportato il logo, in basso a destra. Altro esempio vede il gioco di carte collezionabili di Pokémon, dove il dorso delle carte tra OCG e TCG cambia addirittura completamente, rendendo le due categorie distinguibili a prima vista. Per Magic, invece, indistintamente per la lingua riportata sulla carta, il dorso sarà sempre lo stesso. Cosa cambia quindi tra i primi due esempi ed il terzo? Per i primi due le carte non possono essere giocate le une nell'ambiente delle altre, mentre per il primo TCG della storia questa limitazione non esiste. Chissà se anche nel gioco di carte a tema piratesco l'uguaglianza dei dorsi non rappresenterà un punto di contatto. Ovviamente se così sarà ci saranno delle conseguenze inevitabili, come il crollo del mercato della lingua inglese. Se si potranno giocare carte asiatiche nel metano strano, lo scarso valore di queste spingerà anche gli appassionati più incalliti a reperire quel che manca dall'altra parte del mondo, assestando un grosso pugno ai danni del market occidentale che vedrà così un calo drastico dei costi. Allo stesso momento, però, i nuovi giocatori potranno entrare più agevolmente nella rotta maggiore, reperendo pezzi per completare deck competitivi che prima era pressoché proibitivo riuscire ad ottenere, mentre in questo caso no. Questo fino a che entrambe le quotazioni, sia per l'Oriente che per il nostro mercato, non troveranno un punto di contatto, dove il palcoscenico inglese avrà, sì, sempre più estimatori, tenendo il prezzo delle singole superiori rispetto alle altre, ma non ci sarà di certo un divario netto come lo è al momento, dando la possibilità a chiunque di poter approcciare le dinamiche di questo TCG. Ovviamente tutto ciò è solo una mera ipotesi e staremo a vedere se col passare del tempo anche qui da noi la questione dell'utilizzo dei don con lingua differente verrà permessa. E quindi ha così origine un punto di contatto tra le due macro-categorie, almeno in Asia, che chissà se evolverà in qualcosa di più concreto o si fermerà al semplice utilizzo di risorse multilingua. Anche perché dovremo aspettare che questa novità arrivi da noi, così da poter dare il via all'utilizzo di don spettacolari che qui nel nostro mercato non sono ancora stati resi noti. Come dico sempre, solo il tempo e la casa madre sapranno darci una risposta. E voi, cosa ne pensate di questo argomento? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.